Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Mamma mia quanto tempo era che non dicevo questa frase, sono emozionata, vi dirò! Infatti come sapete, come avrete visto, mi sono presa una bella pausa da YouTube, questa pausa va avanti da marzo e vi avevo spiegato anche perché su Instagram, perché YouTube era diventato un impegno molto importante nella mia quotidianità e non mi sembrava di raccogliere i frutti che desideravo sotto vari punti di vista e quindi ho deciso di prendermi una pausa che, devo ammettere, mi è servita molto. Poi però mi sono resa conto che avevo voglia di tornare qui su YouTube perché questo formato di video, questa piattaforma, mi permette di parlare in maniera più approfondita di argomenti che mi stanno molto a cuore come possono essere i libri e la letteratura e l'adozione e che non si prestano benissimo ad altri social come può essere per esempio Instagram. Quindi ho deciso di tornare su YouTube in maniera un po' più calma senza sentire troppo la pressione ma non mi voglio più privare della bellezza di condividere tante cose che amo anche qui su questo canale. Ho deciso di tornare su YouTube parlando di libri che è poi l'argomento con il quale ho dato inizio al mio percorso su questa piattaforma e vorrei parlarvi delle letture che ho fatto nell'ultimo periodo. Sono andata a vedere quale fosse l'ultimo video delle letture del mese che avevo pubblicato su YouTube e ho scoperto che addirittura l'ultimo è di gennaio quindi da febbraio in poi non vi ho più parlato dei libri che ho letto e sono tanti devo dire quindi ho tanta voglia di condividerli con voi di parlarne e di dirvi la mia opinione. Per questo ho deciso di girare due video che riguarderanno tutti i libri che ho letto da febbraio ad agosto. Ovviamente non potrò parlarne in maniera troppo approfondita perché altrimenti questi video durerebbero circa due o tre ore e non mi sembra il caso di tornare così su YouTube. Va bene che vi sono mancata però insomma c'è un limite a tutto quindi ne parlerò in maniera magari un po' più rapida vi darò giusto due o tre opinioni su quello che ho letto però intanto vi prendete una bella carrellata di libri e magari trovate anche lo spunto per delle nuove letture che potrete fare in futuro. Prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivate anche la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video e poi se non lo fate già seguitemi anche su Instagram per vedere anche piccole parti della mia vita quotidiana sia con la bambina, la nostra storia di adozione e le mie letture oltre che la nostra vita quotidiana su Instagram mi trovate come Martina Tazza. Bene direi di cominciare. Piccolo disclaimer prima di iniziare. Alcuni libri li ho letti in cartaceo altri invece li ho ascoltati con Audible. Lo dico adesso per non ripeterlo poi successivamente stavo utilizzando una promozione che era su Audible quindi ho pagato molto poco per sei mesi un po' di più ma sempre poco per altri tre mesi poi insomma l'offerta è finita quindi adesso non ho più Audible perché per me il prezzo pieno è troppo caro per la quantità di libri che ascolto. Per questo alcuni libri li ho qui con me in cartaceo altri invece vi lascerò chiaramente l'immagine per poter vedere le copertine. Visto che sono una maniaca dell'ordine ve li racconterò in ordine cronologico come li ho letti, esattamente come li ho letti. Allora partiamo da Siddhartha di Herman S. Ho ascoltato questo libro su Audible e sono sincera credo che se l'avessi avuto in cartaceo non sarei riuscita a terminarlo. Non odiatemi per questo però se mi conoscete da un po' sapete che io e i classici abbiamo un rapporto di amore e odio soprattutto per lo stile di scrittura che viene utilizzato all'interno di questi libri che purtroppo non rientra proprio nei miei gusti e quindi trovo la lettura più pesante e quindi più difficile, meno scorrevole. Però devo dire che ascoltarlo è stato per me molto più semplice perché la voce narrante era veramente molto bella e quindi sono riuscita a terminarlo. Dire qualsiasi cosa su Siddhartha probabilmente è superfluo perché è un libro famosissimo, conosciutissimo che parla di questa storia quasi di formazione di questo giovane uomo, ragazzo e poi uomo che cerca di capire quale sia la sua strada quale sia il significato della sua vita in vari modi partendo da una vita ascetica da monaco quasi per passare poi attraverso l'amore, il sesso, il denaro quindi vari stili di vita per riuscire a capire quale sia quello che gli farà capire qual è il vero senso della vita. Un romanzo intenso, un romanzo profondo che ci accompagna durante un cammino nel quale il protagonista si fa tante domande esistenziali e che si trova spesso a ricevere delle risposte da persone o situazioni assolutamente inaspettate. Sicuramente un bellissimo romanzo se vi piace poi il genere dei classici non ve lo potete perdere. Secondo titolo parliamo di Non ti credo di Sophie Hanna acquistato in un negozio delusato di questa autrice avevo già letto altri libri mi sono sempre piaciuti e anche questo devo dire non mi ha delusa è la storia di una donna un amante anzi quindi l'amante di un uomo che improvvisamente si vede abbandonata perché quest'uomo non si riesce più a trovare lei è completamente nel panico e nel pallone ma la polizia sembra non dare il giusto peso alle sue paure lei poi nasconde un segreto terrificante orribile del suo passato che sembra non aver niente a che fare con questa sparizione ma che invece insomma alla fine si rivelerà determinante per tutto ciò che accade nel libro è un libro che tratta argomenti molto pesanti molto seri e che abbina chiaramente a questo giallo a questo mistero che deve essere risolto si inizia sempre con alcuni personaggi cominciamo a conoscerli anche intimamente lei è molto brava a definire a dare tridimensionalità ai personaggi poi questi aumentano scopriamo nuove persone nuove sfaccettature e diventa veramente difficile per noi riuscire a capire quale sia poi il finale perché l'autrice sa sempre sorprendere secondo me è stata una bellissima lettura terzo libro io mi fido di te di Luciana Littizzetto letto con il nostro club del libro mi sembra che il tema del mese fosse libri scritti da persone che non sono scrittori di mestiere ecco diciamo che non sono principalmente scrittori ed io ho letto questo perché qui lei racconta la sua esperienza di affido barra adozione nel senso che lei ha in affido ma da tanti anni quindi nonostante non lo sia legalmente è praticamente un'adozione di due fratelli per me è stato interessante perché sapete l'argomento mi tocca anche personalmente ed è bello insomma leggere anche il lato un po' più umano che va al di fuori di quello che vediamo soltanto sullo schermo in televisione di Luciana Littizzetto l'unico neo di questo libro è che secondo me parla da molto spazio ai problemi nel senso le difficoltà che ha avuto con questi due bambini e poi i ragazzi e magari questa cosa se una persona che legge questo libro vuole affrontare il percorso dell'adozione potrebbe spaventarsi un po' nonostante lei rimarchi sempre il fatto che i problemi sono stati risolti le situazioni superate e questo la maggior parte delle volte è stato possibile grazie all'amore non solo che sente lei per i figli ma anche che i figli sentono per lei però ecco diciamo che è emerso anche al club del libro che venivano raccontate tante situazioni di difficoltà che magari non rispecchiano proprio la realtà perché insomma le situazioni difficili nelle adozioni ci sono ma ci sono anche un'infinità di bei momenti che sarebbe bello aver potuto leggere in ogni caso una lettura interessante questo libro sono felice di averlo in libreria con me passiamo adesso ad un altro libro che ho ascoltato con Audible ed è Il Giardino Segreto quindi un altro classico devo dire che due classici lo stesso mese per una come me che non ne legge praticamente mai è un buon traguardo ho letto questo libro o meglio ho ascoltato questo libro dietro suggerimento di una mia amica e il libro mi è piaciuto moltissimo veramente molto bello allora diciamo che non è la classica trama per cui un protagonista affronta una serie di difficoltà quindi c'è un po' un saliscendi quindi momento in cui sta bene difficoltà la difficoltà viene superata poi succede qualcosa di imprevisto qui diciamo che è più una curva crescente nel senso che questa bambina orfana si ritrova a vivere in una casa immersa nella brughiera ed è costretta a cambiare completamente lo stile di vita che aveva avuto fino ad allora e diciamo che la natura che la circonda gli orti i giardini e il mistero di questo giardino segreto la aiutano sotto tanti punti di vista non solo quello fisico della salute ma anche a livello mentale la protagonista poi incontrerà anche altri personaggi sia adulti che bambini soprattutto uno con il quale instaurerà un rapporto molto particolare visto che il bambino sta vivendo una situazione critica e piuttosto difficile non voglio dire altro perché non vorrei rovinarvi la bellezza di questa storia soprattutto le descrizioni della natura che cambia con le stagioni e questo giardino segreto che è un po' un posto magico e non lo so qualcosa che fa parte solo dei sogni ecco questo è quello che ho provato io leggendo questo libro ascoltando questo libro ovvero mi è sembrato di tornare bambina ed essere finita in mezzo a una fiaba perché le atmosfere sono quelle quindi davvero super consigliato un classico da non perdere passiamo a un altro bel librone Green Lights di Matthew McConaughey McConaughey non so come si possa pronunciare l'arte di correre in discesa allora questo libro è un libro in cui l'autore parla di se stesso principalmente quindi parla della sua storia e della sua vita ma è un libro che racconta di come lui è riuscito a imparare da tutto quello che nella vita è arrivato abbussato alla sua porta e di come è cambiato in base alle situazioni che si è trovato davanti da cosa ha imparato insomma racconta un po' un percorso di crescita personale ma soprattutto il suo modo di vivere la vita ed è un modo meraviglioso prenderla proprio di petto aprirsi a tutte le opportunità ma allo stesso tempo essere abbastanza forti da perseguire quello che si vuole che si desidera nonostante le difficoltà è un libro piuttosto costoso perché all'interno è molto particolare pieno di foto vediamo se riesco a farvele vedere pagine insomma un po' ecco anche colorate ecco bigliettini fotografie insomma c'è un po' di tutto ma è un libro che si legge veramente con grande piacere tanto che l'ha letto anche il maritino non ho molto altro da dire su questo però ne avrete sentito parlare veramente molto bene fidatevi perché è veramente un bel libro altro libro letto parole di conforto di Matt Haig Matt Haig non so come si pronunci credo Matt Haig niente di speciale su questo non dico molto perché ha già scritto altri libri tutti sullo stesso tema ovvero la depressione quindi è un librettino con capitoli anche veramente brevissimi con tante frasi motivazionali discorsi incoraggianti lui ha affrontato la depressione durante la sua vita e quindi ha deciso di dedicare le sue opere proprio a questo quindi al cercare di far capire a chi non è depresso che cosa sia veramente la depressione ma anche a chi sta affrontando un momento difficile come superarlo grazie alle sue parole e alle sue esperienze però in realtà è un libro molto simile ad altri credo altri due che ho letto dello stesso autore quindi sta un po' rimpastandolo degli stessi argomenti se non avete letto niente del genere di Matt Haig sicuramente questo ve lo posso consigliare però ecco se ne avete letto un altro questo probabilmente è superfluo altro libro cartaceo avanti parla di Lydia Ravera allora lei autrice meravigliosa mi piace tantissimo non l'avevo mai letto niente di lei un racconto intenso un racconto soprattutto bello perché visto dal punto di vista di una persona anziana cosa che non si trova così spesso veramente meraviglioso cioè io sono qui solo per dirvi che è bello che dovete leggerlo è la storia di una donna che all'improvviso insomma accanto a casa sua si trasferisce una famiglia una donna che vive sola con le sue abitudini le sue regole molto chiusa e che invece rimane inaspettatamente incuriosita da questa famiglia un po' stravagante con un figlio super ecologista che lotta per l'ambiente una bambina della quale lei si innamora perdutamente come fosse sua figlia e una coppia insomma di genitori che la intriga molto quindi lei entra a far parte di questa famiglia e questa è la raccolta dei quaderni in cui racconta quello che prova quello che sente nelle varie esperienze che condivide con loro sembra una trama forse un po' povera raccontata così in realtà è perché la vera sostanza è tutto quello che questa donna riesce a tirar fuori dalla sua anima da se stessa raccontando quello che le succede dentro e fuori nel momento in cui torna quasi a vivere in cui torna a sentirsi una persona vera insieme a queste persone a questi vicini di casa ve lo consiglio veramente anche questo è un libro ne abbiamo parlato credo anche al cap del libro e se non erro era veramente piaciuto a tutti quindi molto bello ho ascoltato poi due libri di Ken Follett ma ce li ho anche in cartaceo e sono Alta finanza e lo scandalo Modigliani entrambi in queste edizioni preso all'usato delle edizioni vecchissime molto belle però appunto le avevo in libreria ma le ho trovate anche su Audible e le ho ascoltate entrambi ormai Ken Follett lo conosciamo quindi sappiamo che le sue trame sono di solito dei bei thriller che sembrano quasi dei film anche se ovviamente le trame sono molto diverse nello scandalo Modigliani abbiamo il tema dell'arte e del commercio di opere d'arte vere o false che siano e invece in Alta finanza abbiamo chiaramente parliamo appunto di finanza quindi di politici e businessmen senza scrupoli che diciamo intrecciano le loro vite e le loro storie come ho detto qui non mi dilungo troppo sappiamo che autore sia Ken Follett quindi di solito lo si ama o lo si odia nel mio caso io lo amo lo vorrei sposare se fosse un po' più giovane e mi sono innamorata di lui con i suoi racconti ambientati nel medioevo però rimane un bravissimo autore per qualsiasi su qualsiasi tematica perché mi piace molto il fatto che sappia scrivere di argomenti anche piuttosto complessi come può essere il commercio d'arte in maniera così approfondita e chiara perché ovviamente è un uomo che studia molto e che si informa molto quando deve scrivere un libro e questo si vede i suoi personaggi mi sono sempre piaciuti sono tridimensionali ben definiti accattivanti quindi diciamo che sono due letture che io vi consiglio se amate il genere e l'autore chiaramente e l'ultimo libro per il video di oggi è Merci Merci Dior di Agnès Gabriel vabbè comunque un libro che parla di Dior per l'appunto tutto dal punto di vista di una ragazza che diventa un po' la sua assistente personale e quindi viene raccontata attraverso i suoi occhi quella che è poi l'ascesa di questo personaggio famosissimo nel mondo della moda che ovviamente tutti noi conosciamo inutile che vi spieghi chi è Dior la storia appunto però la protagonista per l'appunto è un'altra persona è questa ragazza che vive con lui ma allo stesso tempo racconta anche le vicende sue personali della sua vita il libro non è un granché nel senso che è carino è interessante è un romanzo molto leggero sicuramente non è una cosa così profonda come mi sarei aspettata prima di tutto sembra che le idee maggiori e più innovative di Dior siano venute da questa ragazza e vabbè credo che sia questo un po' un trucchetto un espediente narrativo insomma però ci sono anche altre cose che mi hanno convinta poco per esempio questa ragazza succedono tutte cose positive cioè lei ha una fortuna immensa di qualsiasi cosa ha bisogno bam oh ma guarda che fortuna mi è successo proprio quello di cui avevo bisogno storia d'amore un po' tormentata sappiamo tutti poi alla fine come andrà a finire quindi insomma diciamo che la storia della protagonista è più banale non per questo brutte ci mancherebbe nel senso che sono quei romanzi che ogni tanto ci stanno e che credo piacciono anche a tante persone non la maggior parte però insomma a tante persone magari ecco una lettura più da ombrellone però allo stesso tempo ci immergiamo in Parigi vediamo tutti retroscena di questa casa di moda che nasce piccolina e poi si ingrandisce sempre di più quindi insomma sicuramente ha le sue parti interessanti questo fa parte di una serie di libri che parlano di personaggi famosi quindi io per l'appunto ho letto per il momento la storia di Dior bene ragazzi il video finisce qui io spero che vi sia piaciuto e questa è la prima carrellata di libri dieci libri per voi fatemi sapere se avete letto alcuni di questi se vi sono piaciuti le vostre opinioni e così via e noi ci vediamo la prossima settimana con la seconda parte del video delle letture di quest'anno da febbraio a agosto a presto ciao ciao a presto a presto Grazie a tutti.